Questa domenica si vota per il rinnovo dei presidenti e dei consigli regionali in Calabria ed Emilia-Romagna. I seggi restano aperti dalle 7 alle 23. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio con i risultati che si attendono a notte fonda. In Calabria sono chiamate al voto quasi 2 milioni di persone. L'elettore dispone di due voti, uno per il candidato presidente e uno per una lista provinciale. Non è prevista la possibilità di esprimere un voto disgiunto. In sostanza oggi l'elettore può esprimere il suo voto solo per il candidato alla carica di presidente collegato alla lista provinciale prescelta. Il sistema elettorale calabrese è un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il numero dei consiglieri da eleggere è 30 più il presidente è eletto. In Emilia-Romagna sono chiamati al voto più di 3 milioni e mezzo di elettori. I consiglieri eletti saranno 50. Si può votare per una lista e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente collegato. Si può votare solo per il candidato presidente. Si può votare per il presidente e una lista che lo sostiene. E infine si può votare con un voto disgiunto per un candidato presidente e per una delle altre liste a esso non collegate. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda uno o due voti di preferenza per un candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome o il nome e cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso appena all'annullamento della sola seconda preferenza. L'elettore, lo ricordiamo, deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.